Febbo, dimissioni annunciate del manager dell'Asle di Chieti, Zavattaro, qual è la posizione del centro-destra? Di Forza Italia è una posizione chiara, perché è vero che ci sono le dimissioni di Zavattaro, ma ce ne sono già state altre e tutta questa serie di dimissioni credo debbano far riflettere. Quelle di Zavattaro fanno ancora più riflettere rispetto a ciò che dichiara la stampa, di ciò che leggiamo sui giornali, perché quando un manager si dimette dichiarando mi hanno fatto terra bruciata significa che in questo anno si è lavorato per cacciare contro l'Alz Lanciano-Chieti-Vasto, non nell'interesse dei cittadini ma solo per mettere qualcuno al posto di Zavattaro magari non dando alcune risposte e mi sembra che le risposte questa Alz non le sta dando nell'ultimo anno. Questa è l'unica Alz che per esempio non ha avuto la deroga al fare i concorsi. Se guarda caso l'unico concorso che è stato annunciato, l'unico concorso che si farà è quello del primario di pronto soccorso. Tornando alle dimissioni di Zavattaro, come Forza Italia cosa farete? Noi staremo attenti a queste dimissioni, a capire soprattutto a vedere quali sono i danni e le conseguenze che queste dimissioni porteranno e a capire soprattutto chi sarà il prossimo manager e quali intendimento. E' chiaro che su Chieti, io l'ho detto un anno fa, l'ho ripetuto qualche giorno fa in un mio intervento pubblico, c'è una particolare attenzione da parte del Presidente della Regione, D'Alfonso, e del Commissario che è la stessa persona, quando già sei mesi fa annunciò di voler realizzare la famosa strisce di Giazza, che poi è il territorio di San Buceto, San Giovanni di Atino, questo unico ospedale dell'area metropolitana. Il problema non è solo dell'unico ospedale, noi temiamo che oltre all'ospedale ci sia anche poi un tentativo, io lo chiamo ancora il sindaco di Pescara perché si comporta come tale e non come Presidente della Regione, quella di espropriare la città di Chieti e anche dell'università.